la superbia come l'invidia è una brutta bestia sì una bestia demoniaca sottomarina che mette paura ma adesso non so se ho centrato esattamente il nome di questo sette che ti mette non lo so qualcosa di scuro ma che non se sa perché trascina ti trascina completamente con lui vabbè ne parliamo subito dopo la sigla ben ritrovato come stai allora oggi è il 6 6 6 di ottobre 6 di ottobre ecco qua aggiorniamo allora argomento un po particolare da sviscerare perché il nome di questo set di barry stranman ha un qualcosa che richiama i discorsi biblici racconti dei marinai il nome in sé per sé particolare ma sono andata a ricercare un pochettosi perché dico spesso che il mio pensiero per quanto riguarda i set è questo il produttore si crea una storia un profumo di da un nome e secondo me è collegato ma adesso ragionamento così filosofico se può sembrare anche ridicolo però alla fine c'è esiste questa cosa ma è anche bello perché potresti arricchire la tua cultura se già non sapevo io sono me non l'ho mai sentito quindi sono andato a cercare ho fatto un po di ricerca ho capito e forse penso di essere entrato in connessione con le idee del produttore sulla fragranza perché la formulazione non posso di nulla te l'ho fatto vedere anche l'altra volta come si comporta un barry stranman per me eccezionale eccellente ma oggi appunto si parla di leviathan leviatano questo mostro marino ma forma di drago che c'è una corazza una pelle spessa una corazza fortissima e che viene nutrito soltanto da da dio conto io fa la predica anche perché sicuramente le informazioni che ho preso sono sbagliate però vabbè ci prova a raccontartela una cosa strana infatti lì per lì quando ho guardato il sapone pensavo fosse tipo qualcosa richiamava una bevanda perché vedevo le bollicine poi mi sono accorto che c'è una figura diversa cioè chi lo assoggetta il leviatano all'invidia perché è una cosa che locura rovina però è affascinante io ti dico solo che per me questo è veramente affascinante ma andami a quel paese se dico che le fragranze che proprio mi piacciono ma se non mi piacciono manco te le faccio vedere più di tanto o posso dire la mia e dirti tranquillamente che non me la metterei addosso più di tante volte perché non entra in corda in corda significa che non me soddisfa cioè non ci vuole tanto a capirlo però c'è gente che ancora capisce sta cosa vabbè andiamo avanti allora nulla nulla come al solito barista remman ti mette la piramide olfattiva qui è molto 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 semplice ma stravagante particolare di conquista come quella di midnight special ed è difficile raccontarla bene bene perché io si la racconto poi tu la devi interpretare come fa interpretarla se non la senti è difficile molto difficile allora qui abbiamo te la rifaccio vedere anche il simbolo del caffè perché il caffè secondo il mio naso è naso quindi forse posso parlare qualche cosa si sente si sente ma non come magari possiamo immaginare la polvere la tostatura è un po particolare la questione infatti ci metterò un po a descriverti la fragranza ancora come vedi non l'ho aperto cioè non l'ho aperto non l'ho snasato insieme a te me lo tengo ancora per un attimo allora caffè pelle rossa cetro e sandalo io qualche anno fa per parlarti di pelle russa provai il uicam russian leader e quando l'hanno usato ho sentito sì una parte di pelle fresca tendenzialmente secondo la mia testa quasi cipriata bella bella te ne piace poi quel profumo non hai detto che proprio perché c'è tutto sto riferimento di qua di là ti piace però anche non piacere qui abbiamo quel caffè un po particolare perché regala il profumo potrebbe sfaccettature caramellose legnose e poi questa russian leader che si sente secondo me il cuore proprio russia russian leader si è il cuore secondo me di questo ma non solo perché è contornato poi da il cetro e il sandalo la burrosità scusa la terrosità del cetro del sandalo il cetro agrumato ma l'agrumato appunto te la fa percepire più fresca più pulita e il caffè appunto ha quelle sfaccettature c'è anche un senso secondo me di leggerissima fumosità o può essere io devo raccontare una maria di bagianate se ce l'avete fatemelo sapere ecco si è succedato pure del bagno schiuma e io ti racconto quello che percepisco e sinceramente avrendo questo vaso e lo faccio adesso affascina mi affascina poi magari non piace prevetto l'ho fatto sentire mia moglie ha detto che lei non non gli piace a me si è in modo metto in faccia io questa pelle si sente benissimo quindi ho iniziato con la descrizione olfattiva per non perdere troppo tempo per non fartela perdere nel corso del video e perché è da ieri che me lo sto snasando di continuo e come il midnight special riesco a sentire quella parte finale che a me piace quindi anche se qui sono messi in sequenza quindi caffè rachel liter cedro e sandalo io ti dico appena lo stappi senti la pelle una pelle elegante una pelle vintage no cuoio proprio un pelle allora e adesso me la devo gustare insieme a te me la vado a gustare scusa faccio un po me sa del rumore con il cascato una catenina ti faccio vedere che utilizzano oggi tanto già ho fatto vedere allora pre shave da vaonglori serve non serve io uso poi fate robis mafter shave che ancora è chiuso tre i colori non poteva mancare mettiamo in acqua prende un po di caldo non se vuole soffocare riutilizzo le da quanta che ne vedevi tanto le mercure sotto il mio game changer 68 eccolo qua il 68 ok vediamo un po che succede uso il prefer è perché la pelle ce l'ho un po secchetta quindi allora questo è il sapone affascinante però ti ripeto me riservo sempre la la certezza dell'after shave cioè lo ripeterò fino alla fine se hanno lo stesso nome e hanno no hanno la stessa fragranza solo ecco è più spinto dalla parte alcolica quindi potrebbe uscire prima una fragranza rispetto all'altra poi si attenua cioè discorso anche in profumeria no di testa di cuore e di fondo fondo è quello che ti rimane allora andiamo intanto a fare una cosa basilare bellezza di questo rasoio sono anche le incisioni bellissimo vediamo come si comporta si sto mettendo la vita perché ci vi dico già questa cera che è veramente fastidiosa ok pronto allora vado bagno il sapone perché il sapone è leggermente duro un po troppo acqua lo messo a bere così bagno il viso tanto lo dico sempre la cosa migliore sarebbe quella di farsi una bella toccetta così ti rilassi prima della rasatura ma o tale che la pelle sia più ricettiva allora andiamo vediamo questo mostro marino che mangerà tutti il giorno del giudizio universale piccolo anche test ne prende un po lascio qui quindi già caricato e vado a mettere il pre quindi non c'è trucco non c'è inganno sul montaggio modo da essere più onesti possibili sembra abbastanza carico li vedo profumazione molto soggettiva come sempre però diciamo che almeno a me ha conquistato senza troppe menate e poi appunto è bello questo poter pensare di arricchire magari un po di propria cultura anche tramite una cosa basilare per noi maschietti quindi la rasatura perché no questa bellosità a me piace conquista logicamente profumazione molto ma molto 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 secondo me invernale anche se questa pelle come dicevo prima secondo me accompagnata dal cetro rimane leggermente più fresca però sostanzialmente invernolotta mi da questo senso la pelle russa di cipriato polveroso ok un altro coccio di acqua vediamo un po che succede oh io non so che dirti se montano montano la colpa non è la mia ma sono sporcato pure il microfono tra un po con la testa vado su da questo solo aggiungiamo un goccio di acqua ce lo mettiamo un goccino di acqua questo povero satunceno che profuma in un modo magnifico non so non so se rende mi servirebbe un pennello che fa anche il massaggio ma ci addormentarei proprio completamente guarda che roba godo lo posso dire che sto godendo come un come si dice leviatano e non far rime con sto nome che già l'ho capito a te allora visto non ho fatto neanche rumore con l'acqua come un leviatano ammazza che scorrevolezza figliolo mio c'ha una scorrevolezza che è mostruosa nel vero senso della parola cioè considera che il baffo si è piegato dal peso del sapone quindi ti ho detto tutto un po' io non posso dirti che a me non piace questa fragranza e come lavora questo sapone ma no perché me lo impone qualcuno perché veramente qualcosa di magnifico non posso parlarne o trovare il pelo nell'uovo perché lo devi trovare ma non mi ero la lera lala vedi è una scorrevolezza ottima ottimo poi come notato il sapone che prende l'acqua senza diventare troppo acquoso un profumo si anche un po' vintage perché no bello elegante allora vediamo se con questo poco sapone che mi è rimasto idratando mettendo un po' di acqua cambia qualcosa comunque molto soddisfatto già la passata del pelo ottimo questo profumo quanto mi piace è come quelle fraganze no come c'è non lo paragono come le fraganze mousse de sax che è particolarissima il latte dei piacere per forza il denarius pure che è una rivisitazione del mousse de sax che magari in pochi conoscono però posso dire una cosa che a parte qualitativamente parliamo di alto livello appunto punto punto poi ognuno c'è il suo preferito eh se ne ha mai però appunto il sapone così non è paragonabile a un esempio eh commerciale cioè tanto il rasoio che va da solo quasi già la so che se per sé di su fantastico ma magnifico 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 ma magnifico 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 E' un'altra zanna, doi. Grazie. E approfitto, guarda, metto un po' di acqua sul visetto, faccio un'altra piccola insaponata, giusto per godere del beneficio della scorrevolezza. Allora, il rasoio è andato in buona profondità, però si fa sentire che non ti sembra, ma anche ho una pelle abbastanza delicata, anche se può sembrare di rospo. Allora, ok. Ok, bene. Scusa il colpo di dosse. Allora, sciacqua il viso. Allora, come dicevo, vi do la conferma del fatto che la lametta è andata in profondità. C'è qualche sgranatura, perché non me ne so accorto, perché, ripeto, va una meraviglia a sto set, a sto sapone, ha una buonissima scoprevolezza, sei idratato logicamente a puntino. Secondo me lo si può idratare ancora di più. Scusa se non mi vedi, ma io, c'ho lo specchio che è piccolo, quindi non è che... Eh sì, la differenza se sentono. E come se se sente. Qui mi sono fatto un piccolo puntino. Vabbè, oggi mi sono dato un po' dei puntini, dai. Vedo i punti da solo. Ti pare poco? Hai capito? Allora, rinfrescata. Allora, pelle morbida. Ma anche se in qualche punto mi so appizzicato, ma le vetano... Deve fare anche questo, a partire scherzi. È la mia mano che... Ma a me non mi frega niente. Allora, scusa le spalle. Eccoci qua. Andiamo ad aprire... No, aspetta, fammi pulire prima il mio amico. Il mio carissimo amico. Eccolo qua. Bello, pulito dopo lo strizzo. Ok, aspetta, ma le sciovo le mani, perché se non è casino. Ma no, è bagnato un fratico. Asciugamano. Allora, eccolo qua. Andiamo a... Sciacarare. E... Cerchiamo di capire... La... Fragranza. Aspetta, asciugo un po' la mano, perché c'è ancora un po' di acqua. Non vorrei che mi alteri la fragranza. Madonna, il caffè come si sente? Madò! Ma! Un caffè quasi pocket coffee. Allora, io ce sento questo. Se tu te lo compri e non ce lo senti più che tanto, non ce la posso fare niente. Nel senso che è la mia percezione. L'ho sentito subito. No, per scaricarmi da responsabilità di averti detto che ho sentito il caffè, sei chiaro? È presente, quindi il caffè c'è. Ma... Mamma mia quanto è buonissimo. Cioè... C'ha questo contrasto di questo caffè con questa pelle russa che è qualcosa di meraviglioso. meraviglioso. E c'ha una morbidezza derivata dal sandolo che è veramente spettacolare. Mamma mia che roba! Poi c'ha questa punta di agrume fresco. Essendo una... una fragranza calda, no? Questa punta di... Questa punta di cedro non mi dispiace, ma io ci sento un qualcosa anche ipoteticamente di fumoso. Non invasivo, ma c'è. C'è. Allora, io posso fare una mia ipotesi. Credo, credo che questo set possa piacere a chi ama anche i tabaccusi. Senti com'è bello... No, ti avvolge, ti avvolge. Quindi posso dire che magari questa etichetta significa rappresentare quello che sto provando. Potrebbe, non lo so. Sono mie supposizioni. Mamma mia che spettacolo! Questo di 10? 10. Non ho mai dato voto di 10. Supera i 10. Secondo me. Secondo me è micidiale. Cioè, ti strega, ti strega, ti strega, ti strega, ti strega. Vabbè, io faccio i complimenti a Baris Armand per questo Leviathan. Leviathan. Spettacolo! Il sapone si è comportato benissimo. Non posso di altro. L'hai visto anche te. E quindi che ti devo dire? Se ti piace l'idea della velle, diciamo che il contrasto e la forza della fragranza la senti molto bene, giustamente nella parte alcolica. Nel sapone lo apprezzi ugualmente, ma è un po' più soft. Quindi non è così. Invece nella base alcolica è veramente qualcosa di mostruoso, ma buono. Buonissimo. Uno potrebbe dire che sento una sfumatura anche di incenso, ma non c'è. E' questo caffè o questa velle rossa? Leggermente amarognola, va? No, ma leggermente acre. Però è buonissimo. Vabbè, se ce l'hai, l'hai provato o lo proverai, fammi sapere nei commenti per cortesia se ti trovi in linea con quello che ho detto io o no. E la mette Mercury molto bene su Game Changer 68P. Sono andato con la mano pesante, infatti qua vedi come l'ho preso, perché non ho sentito praticamente passare il rasoio. Te lo posso giurare. E' andato benissimo, è andato in profondità, bene per quello che per me è la mia profondità, perché anche utilizzando i multilama ci sono dei punti del mio viso che non vengono toccati per bene. E comunque rimane un po'. Però vabbè, lo stesso è che comunque l'effetto morbido velluto ce l'ho, poi lo apprezzi a distanza e tempo dalla rasatura. Quindi non ho sentito la lametta agganciare o strappare o avere difficoltà, fatto sta che appunto mi sono anche preso. Ma io come dico sempre, faccio vedere quello che mi succede, non è che ho un nascondo, non è il vento, mi hanno suonato, devo scappare un attimo dal bagno e lo faccio vedere tranquillamente. Perché succede a tutti quanti. Vabbè, grazie per aver visto il video fino a questo momento, noi ci vediamo al prossimo e come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarpate. Posso anche concludere così, in silenzio. Ciao. 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 Grazie a tutti.